Il paterno per la salvezza, la C-Reale per l'orgoglio. Al Falcone e Borsellino prevalgono le motivazioni dei padroni di casa che senza particolare fatica si impongono 3 a 1 su una C-Reale che sembra ormai essersi arreso alla retrocessione in eccellenza. Per il paterno invece è un passo importante verso la salvezza, prima dell'inizio di una settimana decisiva a livello societario. Comincia la settimana per consolidarci a livello societario dal punto di vista economico, ciò sarà importante anche per dare una risposta finalmente prima di tutto ai ragazzi che sono stati veramente degli eroi quest'anno e naturalmente anche alla città. Davvero poche le note di cronaca in una partita condizionata dal vento, decisa fin dal calcio d'avvio. In casa Granata infatti c'è area di smobilitazione e i giocatori senza allenatore e dirigenti si autogestiscono. Tutto facile quindi per il paterno in vantaggio dopo 13 minuti con Garufi che sfrutta al meglio un assist di Truglio. La risposta Granata è affidata a due sortite di Provenzano, di Benedetto non si fa sorprendere. La partita si accende prima dell'intervallo, Mastro Lilli realizza un calcio di rigore e porta il paterno sul 2-0 poi, più con l'orgoglio che con lucidità Rabbeni accorcia le distanze, tapì in vincente dopo il tiro di corso. Nella ripresa non succede praticamente nulla, il paterno controlla il risultato, anche perché la Cireale non fa niente per impenserire la rettoguardia della squadra di Strano. A chiudere i conti ci pensa ancora Mastro Lilli, gol facile e facile dopo un'azione personale di Mandarano. Finisce 3-1, paterno che sale in classifica a quota 38 e si tira fuori dalla zona calda, anche se per la salvezza ci sarà ancora da lottare nelle ultime sei partite.